Ciao, buongiorno e bentrovati. Oggi vi voglio parlare sempre in diretta di un trattamento che come potete vedere alle mie spalle è un trattamento di bellezza per il nostro viso. Nello specifico stiamo trattando la zona del perioculare, quindi la zona del contorno occhi, quindi contrastiamo le zampette di gallina, le borse e le occhiaie. È un trattamento di bellezza effettuato con il macchinario dell'LPG che può trattare il nostro viso a 360 gradi. In questo momento stiamo trattando, come potete vedere, appunto il contorno occhi, ma non è detto che non possiamo trattare il contorno labbra, quindi ridefinire e contrastare il codice a barra, oppure contrastare le rughe nasolabiali, oppure ridefinire i zigomi o anche il nostro ovale. Naturalmente vi aspetto qui in istituto per una consulenza gratuita. Ciao!